Oggi con la richiesta fatta al Presidente del Senato, dichiarazione d'urgenza su un disegno di legge a mia prima firma, ma che vede la firma di tutto il gruppo della Lega Nord, contro la pubblicità del gioco d'azzardo nella televisione e nelle radio, è un passo importante perché da questo punto di vista anche il nostro Paese, ma in modo particolare in Europa, il nostro Paese è in sofferenza, molte famiglie sono rovinate e su questo tema noi speriamo veramente che ci sia da parte di tutto il Parlamento una visione univoca.